Nel luglio del 1518 una donna chiamata Frau Trophy entrò in una stradina di Strasburgo in Francia e iniziò una fervente veglia danzante che durò tra i 4 e i 6 giorni. Alla fine della settimana altre 34 persone si erano unite a lei e nel giro di un mese la folla di persone che ballava saltellando si era gonfiata ancora aggiungendo altre 400 alla loro isteria. Molti della folla hanno iniziato a cedere a causa di attacchi di cuore causati da disidratazione o stanchezza fisica. Un rapporto dell'evento indicava che fino a 15 persone al giorno cadevano vittima di quella che alla fine venne chiamata la peste danzante. I medici andavano a visitare alcune delle persone affette da questa strana malattia ma non riuscivano a trovare una causa definitiva. Hanno escluso cause soprannaturali chiamandola una malattia naturale causata dal sangue caldo anche se non si sa esattamente cosa intendessero. Alcuni moderni ricercatori hanno ipotizzato che la causa avrebbe potuto essere correlata all'ingestione di funghi ergo che crescono sul grano e contengono la tossina peggiotami. Si tratta di un composto chimico simile all'LSD che può avere effetti psicoattivi quando ingerito. La creatura della Polonia River Questo video sembra mostrare il momento in cui una strana creatura è stata estratta da un lago messa su una barella e portata via da alcuni personaggi misteriosi in tute biochimiche. Il video è stato registrato in Polonia. Il cortometraggio mostra un gruppo di uomini in quelli che sembrano abiti bianchi che indossano di solito persone che lavorano in luoghi a rischio di contaminazione biologica. Sono spesso indossati dai paramedici che lavorano per esempio con vittime di un virus altamente infettivo come l'ebola. Il filmato della durata di due minuti inizia con gli uomini in abiti bianchi che circondano un misterioso corpo sulle rive di un fiume. Quindi gli uomini sollevano la forma e posizionano la creatura su una barella. Gli uomini in veste da paramedico quindi portano la creatura in una posizione sconosciuta. Nessuno ha più sentito nulla riguardo questo incidente da quando è stato rilasciato il video da fonti sconosciute. Alcuni pensano che il filmato non sia ancora stato notato da nessuno e altri pensano invece che sia possibile che si tratti di una specie di stunt pubblicitario. Beh, voi cosa ne pensate? Peter Bergman Dal 12 al 16 giugno 2009 un misterioso uomo anziano con un forte accento germanico visitò le città costiere dello Sligu in Irlanda dove trascorse i suoi ultimi giorni. L'uomo si registrò nell'hotel a Sligu sotto il nome di Peter Bergman e pagò il suo soggiorno in contanti. Il 16 giugno il corpo di questo enigmatico uomo è stato ritrovato su una spiaggia in circostanze molto misteriose. Gli investigatori hanno guardato tutti i filmati delle telecamere di sicurezza disponibili nel tentativo di capire che cosa gli era successo e hanno notato che quando Bergman lasciava l'arbergo ogni mattina portava con sé un sacchetto di plastica. Peter Bergman ogni giorno apparentemente ritornava senza questo sacchetto e proprio per questo si ritiene che si stesse gradualmente e accuratamente sbarazzando dei suoi effetti personali. Sebbene non sia mai stata trovata alcuna prova la seconda mattina del suo soggiorno l'uomo ha visitato l'ufficio postale locale dove ha acquistato 8 francobolli postali ed adesivi per la posta aerea. Ciò significa che ha inviato diverse lettere molto probabilmente ad amici e parenti ma questa è solo una speculazione. Le riprese delle telecamere di sicurezza assemblate dal caso mostrano l'uomo che va e viene dall'hotel e che se ne va in giro per la città tuttavia non esistono filmati dei momenti in cui ha smaltito il contenuto della sua borsa. Gli investigatori credono che evitando meticolosamente e intenzionalmente le telecamere durante questi momenti chiave l'uomo stesse cercando di nascondere le sue azioni e diminuire la possibilità che i suoi effetti personali fossero ritrovati. Non si sa perché quest'uomo sembrasse così intenzionato a nascondere permanentemente la sua identità sebbene sia chiaro che questo era molto importante per lui. Il vero mistero iniziò anche quando gli investigatori scoprirono che il nome Peter Bergman era in realtà un alias perché non c'è traccia di nessuno con questo nome nella sua stessa fascia d'età o descrizione in possesso. Nel suo ultimo giorno a Siglu l'uomo ha fatto il check out dall'hotel con la sua borsa di plastica viola e altre due borse nere. Poi ha camminato fino alla stazione degli autobus dove è stato visto dalle telecamere di sicurezza trasportare in realtà solo due borse. Dal video è possibile vedere l'uomo entrare nel bar inoltre può essere visto nel filmato che estrae un pezzo di carta e leggendolo lo strappa. In seguito prende un autobus per la spiaggia di Ross punto in cui molti testimoni lo hanno visto e hanno riferito che stava camminando su e giù per la spiaggia. Sembrava comportarsi in modo strano. È stato in questa spiaggia che il suo corpo è stato successivamente scoperto in modo molto bizzarro. L'uomo misterioso aveva rimosso tutte le etichette dai suoi vestiti e non aveva soldi nel portafogli o qualsiasi altra forma di identificazione. Sulla sua persona è stata eseguita un'autopsia che ha determinato che non c'erano segni di combattimento e nessun segno di annegamento in acqua salata. Ha ulteriormente esaminato che l'uomo aveva un ampio cancro alla prostata e numerosi tumori ossei ma nonostante la sua cattiva salute il rapporto tossicologico ha dimostrato che nel suo sistema non c'erano droghe, inclusi antidolorifici il che significa che probabilmente ha sofferto di una notevole quantità di dolore. La teoria più accettata è che l'uomo abbia viaggiato in Irlanda e abbia deciso di togliersi la vita. Tuttavia, nonostante ulteriori indagini la polizia è completamente incapace di scoprire chi fosse quest'uomo come è morto e le ragioni della sua misteriosa azione. Il 29 agosto 2016 una famiglia di 5 persone in Australia ha deciso di andare via di casa senza dire niente a nessuno pensavano di essere inseguiti. Nonostante le reali ragioni rimangono tuttora sconosciute si specula che pensassero di essere in pericolo forse qualcuno era sulle loro tracce voleva farli fuori e derubarli dei loro averi. Fuggirono dalla loro fattoria in Ribes portando con sé i loro tre figli adulti di età compresa tra i 20, 25 e i 29 anni. Se ne andarono nel loro van grigio dalla stazione di Pugio si lasciarono dietro i passaporti carte di credito e telefoni cellulari. Quando scoprirono che il figlio Mitchell aveva portato un telefono lungo il viaggio con sé glielo fecero buttare fuori dal finestrino. Erano convinti che veniva usato come dispositivo di localizzazione ogni membro della famiglia nel corso dei sei giorni successivi però fu ritrovato uno ad uno. Mitchell fu il primo a lasciare il gruppo dopo aver viaggiato tutta la notte con la sua famiglia intorno alle 7 del mattino seguente lasciò l'auto perché non era confinto delle paranoiche teorie del resto. Più tardi quel giorno anche le due figlie del gruppo Rihanna e Ella lasciarono i loro genitori e rubarono un'auto guidando fino alla città di Goldburn dove riferirono che i loro genitori erano scomparsi. Le due sorelle poi decisero di separarsi. Ella voleva infatti ritornare a casa e dare da mangiare ai suoi cavalli. Rihanna invece non voleva farlo perché era troppo terrorizzata. Quando Ella tornò a casa di famiglia poco dopo si unì a lui anche Mitchell. Rihanna che era rimasta indietro venne poi ritrovata dalla polizia più tardi. Era stata ritrovata in uno stato catatonico nella parte posteriore di un veicolo sconosciuto. Non sapeva di chi fosse il veicolo o dove si trovasse. Il giorno dopo la madre della famiglia fu trovata a vagare senza meta nella città di Yas a 350 km di distanza dalla sua ultima posizione conosciuta. Non è chiaro come sia arrivata lì e a che punto abbia lasciato suo marito Jacob. La donna era stata trovata in uno stato delirante, agitato e confuso. Lei e la figlia Rihanna sono state entrambe sottoposte a cure psichiatriche mentre gli altri due membri della famiglia venivano intervistati in diretta TV. I due hanno tentato di spiegare cosa fosse successo alla loro famiglia all'intera nazione e hanno parlato di come il padre fosse scomparso il sesto giorno. Trump è stato finalmente trovato vicino all'aeroporto di Wangaratta dopo aver apparentemente percorso oltre 1500 km in totale ed è stato portato alla stazione di polizia locale. Non sembrava apprezzare l'attenzione dei media e ha offerto un bel dito medio ai fotografi e giornalisti. Gli investigatori non riescono a trovare alcun motivo per cui la famiglia abbia sentito il bisogno di fuggire da casa senza l'assunzione di droghe o altro. Non è nemmeno stata ritrovata nessuna storia precedente di malattie mentali nella loro famiglia. Le teorie createsi per spiegare questo possibile avvenimento vanno dalla sperimentazione chimica all'avvelenamento da gas o anche stress in famiglia per non parlare di tossine nell'acqua o anche solo una grande recitata ben congegnata. Alcuni hanno ipotizzato che in realtà la famiglia non è la stessa e che siano tutti stati sostituiti da cloni sintetici. Un medico ha ipotizzato che la famiglia fosse in realtà affetta da madness of maddy ossia un disturbo mentale simile alla follia che si presenta in una famiglia molto affiatata. Il disturbo si genera quando i membri della famiglia condividono un'accresciuta illusione di paranoio o paura sebbene questa sia solo una speculazione. La vera ragione delle loro azioni e il loro apparente bisogno di scappare deve ancora essere scoperto. Il 18 settembre 2015 il video di un combattimento tra Mike Tyson e Peter McNeely nell'agosto del 1995 è stato caricato su YouTube e proprio in questo video qualcuno viene visto fare una foto da quello che sembra essere un dispositivo smartphone o un dispositivo molto più avanti degli anni 90 in cui è stato girato questo filmato. Non so se si tratta di un viaggiatore del tempo o no ma nessuno può spiegare quale fotocamera fosse e la clip che vi mostriamo è un vero e proprio filmato della lotta tra Tyson e McNeely nel 1995. Include scorci di un membro del pubblico che utilizza un dispositivo simile nell'aspetto a un modello telefono con fotocamera. Il primo esemplare di qualcosa di simile non è stato venduto fino al 2005 ossia 10 anni più tardi. Questo potrebbe essere stato un appassionato di box che viaggiava nel tempo e sarebbe quindi tornato dal prossimo futuro per assistere a un particolare incontro di persona anche se alcuni hanno ipotizzato che l'oggetto in questione sia semplicemente un'insolita fotocamera portatile. La forma distinta di un sottile rettangolo bianco con angoli arrotondati fa sembrare però più che si tratti di un iPhone moderno. Cosa ne pensate voi? La sindone di Torino. Per secoli i cristiani avevano creduto che la sindone di Torino fosse stata usata per avvolgere Gesù Cristo o meglio il corpo deceduto di esso. Il telo presenta delle macchie che sembrano indicare che sia stato utilizzato per avvolgere il corpo di un uomo molto simile in modo incredibile alla figura di Cristo. Il telo è lungo 5 metri e 1,1 di larghezza. Numerosi studi scientifici sono stati condotti sul telo i quali indicano che il telo risale almeno al 1390 e che diverse modifiche sono state apportate ad esso nel medioevo. Esistono molte teorie sul come sia stato creato il viso sul telo ma non esistono prove di colorazione o pittura. Alcuni pensano che l'immagine si sia formata naturalmente quando le fibre della stoffa si sono oscurate nel tempo mentre altri ancora credono che sia una prova della presenza di macchie di sangue e macchie di sangue con DNA umano sono state trovate da squadre forensi ma sono campioni troppo degradati per essere rintracciabili a qualsiasi periodo di tempo. La stessa chiesa cattolica non ha mai riconosciuto formalmente la sindone sebbene si è esposta in una cattedrale a Torino probabilmente perché sanno che si tratta di un falso creato circa 730 anni fa. Ma voi cosa ne pensate di questi eventi misteriosi che rimangono tutt'oggi senza spiegazione? Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti qua sotto lasciate un grosso mi piace se questo video vi è piaciuto o non mi piace se invece non vi è piaciuto iscrivetevi se siete nuovi al canale attivando la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei futuri video noi come sempre ci vediamo nel prossimo ma nel frattempo prima di andare via vi consiglio di guardare uno di questi due video a schermo che sicuramente vi piaceranno